Ciao Enrico, sono Raffaele Tranchese e sul mio profilo faccio video food porn. Mi faresti una pizza che spacca? Ciao Raffaele, tu vuoi una pizza che spacca? Eh, ma ci pensi, eccetto che te la faccio. Eh, vieni, vieni Raffaele, vieni a festa a me per fare questa pizza. Abbiamo bisogno di due panetti, uno più grande e uno più piccolo. Iniziamo da quello più piccolo e dopo averlo steso andiamo a ricavarci una piccola montanarina e un piccolo pezzo fritto. Ricotto, provo le cicla e pepe. Che ha morto la pizza fritta, hop là, infriggitrice. Guardate qua, guaiù, noi friggiamo nell'oro. E adesso la pizza vera è propria, stendiamo il disco di pasta, sottile, con un po' di cornicione. Un leggero taglio dal centro verso l'alto e un foro sulla parte opposta. Una bella margherita a sinistra, rondelle di patate, fior di latte di aggelala a destra. Un filo d'olio extravergine, hop là, in forno. Costura lenta, docile e mai aggressiva. Guaiù, la pizza è pronta e va sfornata, ma va anche completata. E come completam? Con la montanarina fritta ripassata al forno. E il pezzo fritto che si incastra. La ciliegina di bufala sulla montanarina. La pancetta sulle patate al forno. Dopo aver messo anche la crema di burrata. Il provolone del monaco. Il basilico a crudo. E ancora un filo d'olio. Guaiù, guardate quanto è bello. Guardate che spettacolo. Semplice ed efficace. Questa è la Spacca Napoli. Guaiù, replicate ma non imitate. Perché pure Spacca Napoli. Sa da sapere farlo. Raffaele, tu mi hai capito perché si chiama Spacca Napoli questa pizza? E' un po' forte. Tu questa pizza è vera Spacca Napoli. Eh, guaiù, andatelo a seguire sulla sua pagina Raffaele Tranchese. Tante belle e gustose novità. Ciao!